Milano 29 ottobre ore 23 e 50 Come sempre abbiamo finito il nostro giro di interviste per la città La solita domanda che cos'è per voi la vita al massimo Oggi tra tutti quanti abbiamo incontrato anche niente po' di meno che Francesca Francesca è latronista attualmente di uomini e donne L'abbiamo fermata, simpaticissima, bellissima, cordialissima Abbiamo chiesto che cos'è per te la vita al massimo E lei ha detto per motivi contrattuali e per rispetto per il programma Non posso rilasciarvi interviste Benissimo noi abbiamo detto Allora telecamere spente, gli abbiamo comunque preso la risposta Per Francesca la vita al massimo E trovare l'anima gemella Un saluto a tutti, a Maria, a Francesca, da vita al massimo e da Milano Ciao